Aswell siamo in posizione Scaricano qualcosa su una ghiatta È l'obiettivo Salite e scoprite con chi lavora Ok Ci sono delle pattuglie Sì, Al-Katala sorveglia tutto il porto Eliminatele per raggiungere la ghiatta Mettetevi al lavoro, chiudo Dividiamoci Ripulisco l'esterno, tu prendi il porto Discrezione Ci vediamo alla ghiatta Sì, dopo di lei A terra Bel lavoro, sergente Capitano, ho un'arma Falci piano Meglio non lasciare nemici in vita Uccidili in silenzio Avviciniamoci alla ghiatta Al lavoro Avviciniamoci a un comune di pattuglia nel porto Sono sopra Non stare lassù a lungo Watcher 1, bravo Trapporto Ci stiamo avvicinando alla ghiatta Affonderemo Al-Katala Meglio se vi sbrigate Forse non ci resta molto tempo, John Garza, il rumore non è un problema Attaccalo se puoi Ricevuto Nemico ucciso Non mollare Hanno un altro gommone di pattuglia Attacca Garza, so bene A terra E arrivano altri Uno sul mano Uno ucciso Non mollare Non mollare Come va, Garza? Splendidamente Bene Gas, sono quasi alla ghiatta Raggiungimi al più presto, ma sì, prudente Ok, mi manca poco Sopra Ciao 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 Sopra A terra. Andata bene. Un attimo. Complimenti. Libero. Saliamo su quella chiatta. Arrivo da te, sergente. È chiuso. Seguimi. Naswell, stiamo salendo a bordo. Bene, tenetemi aggiornata. Capito. Sì. Senti. Spagnolo. Pare di sì. Ci sei? Pronto. Che non è scoglionata. Che è chingato! Guarda. La Salmas. Un cartello messicano. Che fanno qui? Laswell. L'Iran usa un cartello per il trasporto. Dammi un nome, John. La Salmas. La San collabora con i Narcos. Aspetta. La chiatta di Narcos. Sempre del cartello. Libero. Il cartello incontrerà Alcatala. Laswell, cerca caffè Gratt. Succederà qualcosa. Quando? Un'ora. Allora. Grazie.